Noi siamo un'azienda e una realtà che produce tutto italiano e produciamo tutto quello che riguarda dalla sicurezza per il pilota, cioè il vestiario per il pilota, come vedete lì c'è la tuta, a tutto quello che riguarda il team e il vestiario per il team, cioè tutto quello che riguarda il loro utilizzo nella prestazione pilota e nella prestazione team, cioè viaggio, meccanici, team manager, tutto quello che riguarda l'utilizzo dei prodotti. Siamo tre soci intanto ritengo dirlo, uno è Giuseppe Andretto e l'altro è Vicentin Agostino che sono anche loro del settore sportivo e abbiamo nel 2001 fondato questa società che prima è nata come studio di progettazione per terzi quindi progettavamo tutto quello che poteva essere accessoristiche in genere dalla parte di scarpe da sci, scarpe da moto e altri accessori. Poi un giorno abbiamo avuto un contatto con una persona molto importante che si chiama Dino Chiesa che vedendo un po' le tecnologie che si facevano in questo settore, grazie a tutto in questi anni nella zona di Montebelluna con la scarpa sportiva aveva permesso di avere tante tecnologie, ci ha detto perché non entrate nel settore il motosport. Per noi è stata una sorpresa perché il motosport è un ambiente mai sfiorato da noi perché eravamo sempre nel settore sci o trekking o al massimo qualcos'altro. L'abbiamo visionato e con lui abbiamo fatto il primo prodotto, una protezione per le costole. Ci è venuta un po' facile perché arrivamo dallo sci quindi avevamo già delle protezioni e quindi ci hanno detto che il prodotto doveva avere delle caratteristiche se riusciamo a svilupparlo. Fatto questo è nato quell'oggetto lì che è nato nel 2003, l'abbiamo presentato a maggio del 2003 e per nostra sorpresa ha avuto un successo enorme perché a fine dell'anno era sulla bocca di tutti nel motosport. Questo ci ha permesso di farci conoscere. Poi da lì una cosa ha tirato l'altra, la prima cosa che abbiamo fatto è un'altra domanda sempre di questo Dino, ho detto perché non fate anche la tuta e noi abbiamo detto la tuta, che cos'è la tuta? Perché in questa parte zona del Veneto non è un prodotto che si fa e soprattutto nella parte ovest verso Torino dove ci sono tutti i nostri concorrenti, anche perché il motosport, questo tipo di motosport abbigliamento è un'eccellenza italiana perché tre o quattro aziende più importanti mondo sono in Italia. E da lì abbiamo fatto delle domande per la FIA, la FIA ci ha riconosciuto come costruttori e siamo stati anche fieri di fare questo perché non è facile avere le omologhe FIA ed avere la nomina di costruttore. Da lì poi è tutta stata una continua ascesa nel mondo avendo dei partner importanti, avendo dei consigli dai piloti, avendo dei piloti importanti che hanno dato fiducia a un marchio giovane, ma la cosa più importante che abbiamo creato qui è avere uno staff e un gruppo di persone all'interno molto giovani. Noi abbiamo investito molto su giovani che sono usciti da scuola, di fatti attualmente una delle responsabili è uscita da scuola e ha 15 anni che è con noi e abbiamo cercato di valorizzare un po' la zona perché tutti i nostri fornitori, ritengo che i nostri fornitori e le nostre produzioni sono dentro 30 chilometri. Sì, a me non piace molto citare perché sono loro i protagonisti, noi siamo, diamo una mano a essere protagonisti ma loro sono protagonisti. Noi va bene, da noi sono passati i vari piloti da Nick De Vries a Leclerc che ha fatto un pezzo di strada con noi, ma noi lavoriamo soprattutto con i team, lavoriamo con team importanti nel mondo, anche nel kart. Nel kart e nel motosport auto siamo adesso una delle realtà mondiali per, io dico, tutto quello che riguarda il personalizzato perché un'altra deccellenza che abbiamo noi è che è un'azienda che fa tutto personalizzato, nel senso che un cliente, un team o una società viene qui e si disegna quello che vuole partendo da un foglio bianco e quindi anche questo ha dato molta credibilità nel mondo. Con noi lavorano team importanti e quindi dobbiamo anche dargli una qualità molto alta. Un'altra cosa importante è che siamo anche un punto di riferimento per le tecnologie. Noi cerchiamo di inserire sempre cose nuove per essere sempre all'avanguardia perché giustamente in un mondo come questo, molto competitivo, bisogna avere sempre idee nuove. Un'ultima cosa che abbiamo inserito noi è per la sicurezza, perché noi chiediamo molto nella sicurezza, anche la FIA perché i materiali che usiamo noi sono materiali che devono essere certificati, quindi devo avere tutta una tracciabilità che la FIA richiede, quindi non è un semplice prodotto fatto ma bisogna dare anche una sicurezza perché un pilota quando monta in macchina o in un kart fa affidamento sui prodotti che facciamo, sia nostri, sia il casco e quindi noi siamo una delle protezioni primarie per il pilota. E una delle cose che abbiamo inserito quest'anno è l'iSki che è un chip molto semplice che ti permette di avere in poco tempo nel primo intervento a un sanitario i dati di chi ha di fronte, perché può essere svenuto e non sapere se prende una pastiglia, se ha un problema, perché non c'è scritto. Quindi questo aiuta, questo intervento aiuta il sanitario a intervenire molto prima, avere delle informazioni primarie che possono salvare la vita alla persona.